Gli studenti Antoine Baird e Carlos Santana dell'Istituto Industriale di Design, Enschille Satellier, hanno lanciato una sfida per far crescere la verdura in maniera controllata e sana, anche nelle case dove l'ambiente non lo permette solitamente. Lo hanno fatto inventando BioBot, una serra interattiva chiusa e dove le piante possono crescere in maniera sicura. Di base c'è il controllore elettronico Arduino, che comanda luci LED per dare alle piante uno spettro ottimale per ogni loro ciclo di vita. Vi sono dei sensori per la luce, la temperatura, umidità e un sistema di areazione volto a controllare la temperatura e modificarla. Infine, una pompa che provvede al fabbisogno di acqua che ogni pianta richiede. Il progetto è economico ed open source. Abbiamo intervistato uno dei creatori. Abbiamo 4 studenti da Francia e ci sono un'automatizzazione di carattere, quindi usiamo Arduino e capterci per la umidità, la temperatura e la luminosità per controllare l'ambiente della planta. Potete usare questo come un incubatore, per esempio, potreste sviluppare le le sede e trasplandare in un'altra parte. O potete usare per le persone di consumazione, per esempio se avete minchia o basil, potete solo cortare le levi e continua a crescere con il tempo. Sì, principalmente per i verbi, ma potete usare anche per le planti che hanno bisogno di un tipo di climatica, per esempio per le nostre figli che hanno bisogno di una temperatura speciale e un regime speciale di water, potete usare e potete programmare automaticamente, o potete usare anche per le planti diversi. Abbiamo già testato con basil, con stracchi, con citronella, con mint, e, per ora, queste sono le planti semplici, ma abbiamo deciso di creare. Questa è la prima versione, è un'opensource versione, usando Arduino Uno. Cosa possiamo fare, lo che possono fare, possono aggiungere nuovi captori, se vogliono, per fare diverse mesi per le planti. Il nostro sito è www.biobot.fr E, da Christmazon, ci sono stati disponibili l'opensource kit, quindi, per esempio, la gente può ottenere il kit direttamente da noi, con tutti i componenti, o, possono downloadare il tecnico plan, quindi, se hanno accesso a un laser cutter, possono farlo per loro. Abbiamo usato Ikea, quindi, tutti possono avere Ikea. C'è chi? Sì, sì, sì. Sì, sono modulare, quindi puoi usare le quali puoi. E, quello che stiamo sviluppando ora, prima di Christmas, è l'applicazione mobile. Quindi, il nostro obiettivo è permettere le persone di controllare le planti da distanza. Quindi, per esempio, se vai a vacanza, potete vedere se la planta è ok. E, per questo piccolo, abbiamo un'autonomia di 1-month, con 10 litri di acqua, perché abbiamo riciclato l'acqua anche. Quindi, mettiamo l'acqua in l'acqua, e l'acqua che non è consumata da l'acqua, va all'acqua in l'acqua. Grazie.